Porco il lama Ovviamente ragazzi è una sfida che abbiamo incominciato da tempo in due squadre Ovvero la prima è la squadra composta da me, Velox, Frank Di Guagna e Joseph The Gamer Contro la squadra composta da Ron, Gabbo, Dread e Zamp Quindi ragazzi questa partita che vi sto portando non è altro che una postazione registrata sul remake di Terminal Per chi non conoscesse Terminal ragazzi era una mappa di Mv2 e poi riportata anche su Mv3 Ragazzi hanno riportata mille volte questa mappa Per me è una delle più belle delle saghe di COD in generale Ed ragazzi questa qui è una partita che abbiamo registrato in live alla Games Week Non so se qualcuno di voi ha seguito ma se avete seguito bene avete visto anche che abbiamo fatto una diretta su Twitch Sul canale di Call of Duty Italia mentre ci sfilavamo, ho commentato agli autogol Raga abbiamo fatto un po' di tutto questa volta Questa è una delle partite migliori che ho giocato e l'ho lasciata anche per rivedere la sfiga Perché alla fine, dopo ragazzi qua il telefono che squilla Perché ragazzi alla fine dopo che ho fatto, ho chiamato le ricompense Ho buttato giù tutto, cadevano i pezzi di cielo dal cielo È crashata la PS4 Cioè è così esplosa la PS4 Però vabbè vi faccio vedere che abbiamo vinto comunque la partita Perché Joseph è stato gentilissimo Mi ha prestato il pezzo finale del suo gameplay Quindi ragazzi potete vedere che comunque la partita l'abbiamo vinta noi obiettivamente E niente, quindi il risultato andrà ai fini poi del risultato finale Per vedere un poco chi tra i due team vincerà la sfida finale Quindi ragazzi, cosa voglio parlarvi oggi? Oggi voglio parlarvi ancora un poco di tutti i commenti che leggo su Infinite Warfare Perché ragazzi è finita la prima tranche della beta La closet beta Da stasera riapre la open beta Qui stasera si torna a giocare fino a lunedì penso Su Infinite Warfare Perché la scorsa volta avevano allungato la beta fino al martedì Perché cos'era successo? Perché dato che il primo giorno non si erano riusciti a giocare E avevano detto va bene, facciamo le persone serie E facciamo giocare un giorno in più Quindi tutto qua ragazzi Quindi ripeto, dovrebbe essere da stasera a lunedì Quindi vi porterò i video E se esco facciamo anche una piccola live su Twitch Studio permettendo Perché in questi giorni sono davvero sommerso dallo studio Raga, vi ricordo sono all'università Quindi è un poco un macello Però quello che volevo dire è che ho letto molti commenti che mi hanno fatto piacere Ad esempio negli ultimi due giorni Ci sono state delle persone che mi scrivono in privato Ma anche sotto gli ultimi video Commenti del tipo Lama io sono, ti dico la verità Sono un periodo prevenuto su Infinite Warfare Però una volta dopo che ho provato questa demo Mi sono accorto che obiettivamente non mi dispiace Non mi dispiace proprio Però infatti ragazzi Allora, quello che voglio iniziare è un discorso particolare Perché molti di voi stanno già rimpiangendo Black Ops 3 Però voglio ricordare un attimo una cosa Appena uscito Black Ops 3 Tutti lo avete criticato Quasi, cioè diciamo che il 50% delle persone lo hanno criticato Per la storia dei doppi salti Per i colori Per ogni cosa Per le mappe e le armi E adesso vi venite a dire che odiate questo gioco Al quale molti ve lo hanno giocato, ripeto Però vi piace Call of Duty Remastered E Modern Warfare Remastered Ora, il discorso qual è? Infinite Warfare è molto più simile All'area remastered di Code 4 Piuttosto che Black Ops 2 Scusate, Black Ops 3 Perché Black Ops 3 è il Call of Duty più rivoluzionario Che abbiamo fatto Nel senso che Il più rivoluzionario probabilmente è stato Advanced Warfare Perché ha introdotto obiettivamente questi doppi salti E queste cose del genere Ha cambiato completamente un po' con le modalità Però quello che le ha Diciamo Portate a livello massimo Le ha esaltate Certo il meglio Ok, però che le ha esaltate al massimo Che ha introdotto molte più Contenuti rispetto ai vecchi Call of Duty È Black Ops 3 Cioè Black Ops 3 È il Call of Duty Che obiettivamente è meno un Call of Duty Quindi non capisco Perché ora state criticando questo Che ha cercato di riportare un po' con le cose indietro Cercando prima di tutto Di attenuare un po' con questi doppi salti E le corse sui muri Perché ragazzi Obiettivamente Su questo code Non vi viene la voglia Di correre sui muri Così come era in Black Ops 3 Cioè le mappe sono fatte Certo Permettono anche di fare Queste cose qua sui muri Ma Non è più una cosa quasi Indispensabile Fondamentale Così come era su Black Ops 3 Ora con questo Ovviamente non voglio criticare Black Ops 3 Perché Ripeto per me Lo dico da sempre È il miglior code mai fatto Perché obiettivamente Prende ogni aspetto Di qualsiasi code Sia quelli belli che quelli brutti E lo porta a un livello successivo Però ragazzi Non potete venire a dire Che preferite Black Ops 3 E La remaster di Modern Warfare A Infinite Warfare Che non è altro che Un passo indietro Rispetto a Black Ops 3 Ma Ripeto Un passo indietro Rispetto alle meccaniche di gioco Cioè Le riportate un attimo A come erano prima Non è vero che È un gioco che non offre nulla Perché leggo commenti Tipo la grafica fa schifo Il gameplay è un vomito Ma dico ragazzi Ma giocatelo un attimo Quindi capirete che È un semplice passo indietro Per ascoltare Ciò che abbiamo da dire Noi fan Noi fan della saga Perché anche io Non vi nascondo Che all'inizio Dai soli trailer Dai gameplay Io va bene Non ho lasciato il dislike Come molti Perché faceva ridere Perché ce n'erano Diecimila L'abbiamo aggiunto uno noi Ma ripeto Obiettivamente parlando Secondo me Gli utenti Sono stati ascoltati Molto più su questo Infinite Warfare Che su Black Ops 3 Perché ripeto Anche la storia degli specialisti Adesso non è vero che È cambiato solo il modo di chiamarli Non si chiamano più speciali Sono proprio una storia Sono diversi Gli specialisti di Black Ops 3 Gli specialisti di Black Ops 3 Offrivano secondo me Meno rispetto a questi Perché Anche col fatto che Qua Ogni specialista Oltre che Un'arma O un accessorio O queste cose Caratteristiche Abbiamo da offrire Anche dei perk Veri e propri Delle abilità Vere e proprie È stato un buon Miglionamento Penso Sapete Ma anche le armi Qua Certo si sono diverse Perché Proprio lo stile è diverso Dei model warfare Lo sappiamo benissimo Questo qua Non è altro che Un seguito Di un'attualizzazione Di un vecchio Magari ghost O di un Mv Ma neanche Mv3 Perché sapete ragazzi Io ho detto che A me Mv3 Non ha fatto impazzire Questo code Invece mi sta piacendo Come stile di gioco Lo sapete che sono serio Perché io Ragazzi sono il primo Indubbiamente Che se avere un code Che non gli piace tanto Non ci fa video Perché mi pare di non avermi fatto video Su Su Advanced Warfare E mi sembra di avermi fatti Pochissimi su Ghost Quindi Capite ragazzi che sono serio Se vi sto dicendo che Il gameplay Visto che potrà Non piacervi Ma fidatevi Provate a giocarlo Scaricate la beta Tanto adesso potete usarla Un poco tutti Poi per il sicuro Io nel caso in cui Mi dovessi accorgere Che non è completamente open Vi lascerò dei codici Qua sotto nei commenti Per scaricarne qualcuna Perché comunque Avevo 5 codici Dalla vecchia closet beta Me ne sono accorto ora Perché l'ho letto sul sito Non lo sapevo Quindi nel caso in cui Non dovesse esserci Sono ben contento Di lasciarveli Comunque ragazzi Un'altra cosa che vi volevo dire È che poi Appena uscirà il gioco Vero e proprio Quindi il 4 novembre Ma anche Quando capiterà No io penso Vabbè al day one Di certo ragazzi Ora che ci penso Sì al day one Per forza Vorrei provare a iniziare Su twitch La streaming Del the race Vorrei provare a vedere Se riusciamo a arrivare Quest'anno Prima al mondo È impossibile Perché ci sono sempre Dei ragazzi americani Che trovano i dischi Non si sa come Il gioco 4 giorni prima E recuperare un gap Di 4 giorni Nella the race È impossibile A meno che Non riusciamo Come lo scorso anno A trovare il metodo Più veloce al mondo Per seguir di livello Quindi io ci proverò Proveremo almeno A essere i primi In Europa Che so Per arrivare al maestro prestigio Ragazzi Quindi vi lascio tutti quanti I link In descrizione Del mio sito Del mio canale Twitch Che però ripeto Inizierò a utilizzare Per bene Soltanto da novembre Prima non penso Sia fattibile Perché Devo studiare Non riesco a streamarvi nulla E da streamare Obiettivamente ci serve Soltanto Battlefield 1 Però dico ragazzi Io voglio giocare a code Quindi Per il momento Vi porterò solo questo Mentre per Qua è crashata la lobby Come potete Ce n'è crashata la lobby E' crashata proprio L'applicazione E' esploso un attimo tutto Quindi ripeto Raga qua c'è un attimo Il gameplay di Joseph Che vi sta facendo vedere Che alla fine abbiamo vinto la partita Mi scuso inoltre Se non c'era l'audio In questo gameplay Però ho registrato il tutto Con il computer Di Johnny Click Quindi ragazzi Prendetevela con lui Se non c'era audio Non è colpa mia Al massimo Non vi lamentate ragazzi Se vi avrò messo un pochino di musica In sottofondo Perlomeno all'inizio Perché Era cercare di rendere Il video Un poco più carino Quindi raga Per stasera Forse nessun video Perché bisogna aspettare Un attimo Che venga attivata la beta E quindi non riuscire E' materialmente impossibile Riuscire a registrare In tempo E renderizzare E applaudare In 20 minuti Anche perché Poi bisogna vedere Se non crasherà un poco Tutta la sera E qui ci vediamo da domani Ragazzi Di nuovo con due video al giorno Perlomeno per qualche giorno Cerco di registrare il più possibile Di tirare qualche nuke Sulla beta E quindi raga Per questo video è tutto Andate a vedere Il video degli altri Che stanno cercando Di fare Che stanno facendo la sfida Assieme a me E contro di me E ci vediamo al prossimo video ragazzi Ciao ciao Ron è sexy Porco lama Ciao ciao